Il 5 maggio è stata approvata una mozione che vede me come prima firmataria, ma è stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio Metropolitano della città di Torino e che ha lo scopo di sensibilizzare tutto il territorio dell'area vasta sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. È gemella di una mozione approvata da poco nel Consiglio Comunale di Torino e della prima in Italia. Il primo scopo è quello di far sì che questa mozione possa essere approvata anche nei consigli comunali degli altri comuni della città metropolitana. In particolare vorremmo sensibilizzare le famiglie, ma anche le istituzioni tutte, sul fenomeno. La città metropolitana si impegna a formare docenti, famiglie e giovani sul tema, considerando anche che l'Italia da recenti studi risulta essere il primo paese con denunce relative a questo fenomeno che oltretutto non è ascrivibile ad una categoria sociale o anagrafica, anche se la prevalenza risulta essere nei preadolescenti. In particolare poi si vuole istituire un tavolo con l'Ufficio Scolastico Regionale, ma anche l'ASL, la Polizia Postale, l'Università e le associazioni del territorio per trovare delle azioni comuni relativamente alla risoluzione del fenomeno.